Ben ritrovati a questo nuovo video nel quale vi voglio parlare come si possano creare degli eventi dal vivo su YouTube anche con Linux. Ecco, quando siete partner di YouTube, ovvero quando accettate di diventare partner di YouTube con un vostro canale, come vedete qui nel mio caso, una delle funzioni che vi vengono messe a disposizione è quella di poter creare degli eventi dal vivo. Vedete qui nella scheda impostazioni canale funzioni c'è qui in fondo l'opzione eventi dal vivo col pallino verde, vuol dire che è disponibile. Ecco, vedete, e questa funzione vi permette appunto di trasmettere in streaming, quindi direttamente sul canale YouTube vi mettete d'accordo con il vostro potenziale pubblico oppure pubblicizzate in precedenza che a una certa data e da una certa ora create, creerete, trasmetterete un evento dal vivo e questo è possibile farlo. Ecco, come funziona? funziona praticamente in modo molto semplice a dirlo a parole. Si registrano le immagini da solitamente una webcam e le si inviano ad un URL, ovvero ad un indirizzo internet predefinito che YouTube assegna con il quale appunto è possibile far passare il flusso delle immagini che la vostra webcam sta registrando sul vostro PC e farle passare direttamente, trasmettere direttamente sul canale YouTube. Questo in due parole quanto succede, che sembra semplice raccontarlo così, probabilmente dietro la tecnologia sarà un po' meno semplice di così, però il succo è questo, ciò che succede è proprio questo. Quindi il tutto sta in questo indirizzo internet particolare, con un protocollo particolare che appunto permette di inviare il flusso delle immagini della vostra webcam direttamente sul vostro canale YouTube. Naturalmente in rete, come potrete benissimo immaginare, YouTube non è l'unica piattaforma che permette queste cose, ce ne sono tante altre che permettono appunto lo streaming di eventi in diretta. Però appunto essendo io iscritto a YouTube vi presento questa possibilità, naturalmente qualcuno potrebbe già usarne altre benissimo. Allora il problema però cos'è? Perché sto facendo questo video? Perché c'è un problemino, qualcuno potrebbe dire il solito problema, per noi che usiamo sistemi Linux e cioè che non c'è a disposizione sulla piattaforma YouTube un codificatore dedicato al nostro sistema operativo a disposizione. Cosa si intende con codificatore? Ovvero il flusso di immagini che la nostra webcam registra quando noi stiamo appunto eseguendo questa trasmissione in diretta live in evento dal vivo. Questa immagine appunto della webcam che solitamente per esempio archiviamo sul nostro PC localmente in un certo formato audio e video. Quindi se noi registriamo un video ripreso dalla nostra webcam sul nostro PC lo avremo in punto avi, punto mpeg, punto quello che vogliamo noi. Ecco, anche per trasmettere in streaming naturalmente è necessario uno di questi formati. in modo che il flusso video, la piattaforma YouTube, possa mostrarla diciamo al mondo, ecco, a tutto il nostro pubblico. Ecco, per applicare questa codifica al flusso di immagini che proviene dalla nostra webcam sono necessari dei programmi, insomma, un qualcosa che funga da tramite fra la nostra webcam sul nostro PC locale e la piattaforma YouTube sul web. Ecco, quando noi andiamo a creare un evento dal vivo, come si fa? Siamo sempre nel nostro ambito, nel nostro canale YouTube, sotto la sezione gestione video c'è, quando appunto è attiva questa funzionalità per voi, c'è appunto l'opzione, la sezione eventi dal vivo. Si fa clic qui e appare appunto la sezione di gestione degli eventi dal vivo, fra i quali c'è un pulsante qui in alto a destra, nuovo evento dal vivo, oppure, bella scritta qui in grande, pianifica un nuovo evento. Ecco, quando si preme nuovo evento dal vivo, si apre, aspettiamo un attimino, si apre, si apre, vediamo un po', sì, ecco qua che arriva, crea nuovo evento. Ecco, creare nuovo evento è un po' come pubblicare un video in sé, vedete che chi è già abituato a creare e pubblicare video su YouTube riconoscerà un po' questo pannello con i campi del titolo, della descrizione, dei tag, della categoria del video, praticamente uguale, questo che è il pannello di pubblicazione del paese dal quale viene pubblicato, eccetera, eccetera. Ecco, ci sono le caratteristiche dell'evento dal vivo, scusate anche la monetizzazione, il fatto che per me, per difetto, mi crea video o eventi privati, vuol dire che finché non le rendo pubblichi, pubblici, voi non li vedete, eccetera, eccetera. Le caratteristiche dell'evento dal vivo, semmai, le si nota qui in basso, dove si parla di paese fuso orario, da dove viene diffuso l'evento dal vivo, ovviamente, perché chi partecipa idealmente, potenzialmente, si può partecipare dall'Australia all'Europa, è il fuso orario importante, perché uno si alza di notte, oppure è in pieno giorno, oppure eccetera, eccetera. Quindi sapere da dove viene trasmesso l'evento dal vivo è importante, quindi il paese, il fuso orario. Poi c'è anche un inizio, ovviamente, quando inizierà questo evento dal vivo, si può mettere una data e un'ora, e anche se è previsto una fine, cioè io voglio fare una trasmissione da 30 minuti, da un'ora, due ore, vedete, fino a 36 ore. Può essere creato un evento che è previsto che duri fino a 36 ore filate, quindi immaginatevi voi quale ampiezza avete a disposizione. Facciamo finta che duri 30 minuti, giusto per dargli una fine, e inizierà alle 10 di questa sera. Ecco, ma tanto non lo creeremo sì e no questo evento, è solo per mostrarvi il problema che abbiamo con la nostra piattaforma Linux nell'usare direttamente uno dei codificatori proposti dalla piattaforma, che non è, come potete vedere già qui, appunto per Linux, non esiste direttamente un codificatore. Quindi gli si dà un titolo a questo evento, diciamo, demo tutorial, tutorial, una descrizione non è obbligatoria, la mettiamo così, ecco siamo a posto, monetizzazione non ci serve in questo momento, impostazioni avanzate, vediamo cosa c'è, le solite, la licenza con la quale pubblicate il contenuto, se volete registrare come fosse un registratore il vostro evento, in modo che possiate cercare anche indietro nel tempo, per un massimo delle prime 12 ore dell'evento dal vivo, quindi se abilitate questa opzione di registrazione dell'evento, anche se avete perso la diretta per le prime 12 ore, potete tornare come in replay, un po' come nelle tv digitali che ci sono oggi a disposizione nelle nostre case, potete tornare indietro a rivedere l'evento che avete perso, ci sono varie opzioni specifiche per gli eventi live, ma questi panel sono molto simili alla pubblicazione di un normale video su YouTube, come quelli che pubblico normalmente. Ecco, abbiamo fatto le nostre impostazioni minime e facciamo crea evento. Ok, abbiamo creato il nostro evento, qui si può dargli un'icona identificativa, una miniatura se vogliamo, ed ecco qua che andiamo alla pagina importante, vedete abbiamo passato la prima scheda, informazione e impostazione, siamo arrivati all'impostazione di importazione, ovvero di come questo evento dal vivo dovrà prendersi carico dello stream, delle immagini prese con la nostra webcam localmente e mandarle verso il pubblico attraverso la piattaforma YouTube. Quindi queste sono le caratteristiche tecniche importanti, qui che volevo arrivare, a parte la miniatura che si può mettere o no, noi dobbiamo scegliere il bitrate per il nostro codificatore, ovvero con quale qualità, con quale quantità il nostro stream deve passare, può passare verso la piattaforma live. E se ne può selezionare uno qui già predefinito, vedete, ce ne sono fino a 1080p, cioè in alta definizione, 720p, 480p, 360p, 240p. Queste identificazioni numeriche, queste cifre, le riconoscete sicuramente anche dai video YouTube che guardate. Nel visualizzatore c'è sempre l'ingranaggio, la rotellina delle impostazioni, e lì vedete in quante dimensioni è disponibile ogni volta un video che guardate su YouTube. Secondo della grandezza del vostro schermo, potete sfruttare una visualizzazione a più alta qualità, tipo 1080p o 720p, oppure se avete uno schermo più piccolo, è inutile che lo guardate a definizione troppo elevata perché non riuscite a sfruttarlo, potete guardare solo a 480p, oppure anche se avete una banda a DSL, una banda internet bassa, è inutile che cercate di vedere i video a definizione troppo alta, perché non riuscirà a supportarlo la vostra connessione internet, quindi potete stare bassi. Ecco, qui dovete fare una prova con la potenza anche del vostro PC, perché naturalmente la codifica, la presa in carico dello stream, della vostra webcam e l'invio verso la piattaforma YouTube, dipende sia dalla vostra connessione internet, dall'efficacia di quella, sia anche dalla potenza del vostro PC, potenza grafica, perché potete immaginare che delle immagini in movimento mandate costantemente, richiedono un bel lavoro da parte del vostro PC, così come l'upload, cioè l'invio, il caricamento, attraverso la vostra connessione internet, di tutte queste immagini streaming continuo, tutto deve essere adeguato, ecco. Per esempio, combinazione PC e connessione internet da parte mia, mi permette di far funzionare, per quelle pochissime prove che ho fatto, mi permette di far funzionare il tutto, se sto sotto i 720, quindi il massimo 480p. Ecco, e quindi vedete voi, fate una prova con il massimo, per avere la qualità migliore, poi scendete se vedete che lo stream, che ne so, ha delle interruzioni, ha degli scatti, ha degli artefatti nelle immagini, perché non riesce a trasmettere bene, quindi dosate, diciamo, l'ampiezza dello stream, quindi del flusso di immagini, dosatelo a seconda della vostra connessione internet, della vostra potenza del vostro PC. Ripeto, io sono arrivato ad avere un massimo qui, che mi garantisce, diciamo, il successo quasi garantito, ecco, dello stream. Se il PC non sta facendo nient'altro, se lo occupo per quello, mi funziona così. Quindi scelgo questo stream a 480p, che vale per una grandezza di immagine, 640x480, che per carità, per una trasmissione live, non stiamo facendo un documentario ad alta definizione, può anche andar bene, può ancora andar bene. Quindi si può scegliere questo, ed eccoci qua a questo punto dove volevo arrivare. Codificatori. Vedete che a un certo punto vi dice, ok, per fare in modo che noi, la nostra piattaforma YouTube, si prenda in carico del tuo flusso di immagini, e lo codifichiamo in modo da presentarlo al tuo pubblico, abbiamo bisogno di usare un codificatore. Nel menu a tendina, vedete che ci sono Wirecast per YouTube, Flash Media Life Encoder, e altri codificatori. Ecco, i primi due, Wirecast per YouTube, e Flash Media Life Encoder, esistono solo, li potete installare e scaricare solo per piattaforma Mac e Windows, entrambi, e quindi siamo tagliati fuori come Linux all'usare questi due, come dire, codificatori predefiniti, preconfezionati, preimpostati, o quello, o consigliati della piattaforma. Ecco, per fortuna che Google cerca di non tagliare fuori nessuno dall'utilizzo delle sue piattaforme, proprio anche perché ci guadagna, diciamolo, c'è una voce generica a altri codificatori, e questa è quella che dobbiamo usare noi per poter lavorare con Linux. Quindi noi sceglieremo altri codificatori, così riusciamo ad utilizzare questa piattaforma anche noi. Cosa vuol dire altri codificatori? Vuol dire che invece di, come premessa, farci installare un codificatore, un programma di codifica particolare, non ci fa installare nulla, ma dà per acquisito che noi sul nostro PC abbiamo un mezzo, un qualcosa, un programma che fa quel lavoro, lui, al posto di questi predefiniti che sono per altre piattaforme. E in effetti noi abbiamo questa possibilità. E quindi dobbiamo usare un comando da terminale grazie al programma Aviconv. Ecco, del programma Aviconv io ho già parlato in un mio video, quindi se andate sul o venite a visitarmi sul mio canale YouTube e cercate un video con questo titolo quando nessun software di screencast funziona puntini 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 lì parlo di come si installa e di come si usa questo programma, questo comando da terminale. Ed è quello che dobbiamo usare per poter creare anche noi sempre che lo vogliamo fare un evento in live streaming sulla piattaforma di YouTube e probabilmente anche su altre piattaforme adesso io non ho indagato su altri servizi che ci sono in rete se danno le stesse possibilità. YouTube la dà in questo modo. Come si fa? C'è un comando che provando e riprovando sono riuscito a definire come funzionante ed è questo. Io ve lo metto naturalmente ovviamente nella descrizione di questo video e questo comando cosa vi permette di fare? Vi permette di una volta attivato adesso io lo incollo nel terminale così l'abbiamo qui mentre leggo un po' gli appunti di descrizione di questo comando che ho messo qui sotto nella mia scaletta. Ecco questo comando è quello che funge da codificatore per lo stream che viene dalla webcam e lo invia alla piattaforma YouTube. Quindi riassumendo rapidamente scegliete altri codificatori e qui sotto avete i parametri da usare quindi YouTube vi mette a disposizione per un semplice copia e incolla i parametri da usare da innestare in questo comando in modo che lo stream venga riconosciuto dalla piattaforma YouTube lo stream che viene dal vostro PC e dalla vostra webcam. Allora passiamo un attimo a vedere i dettagli giusto per capire questo comando cosa fa. Dunque magari me lo metto così così non mi sparisce ecco allora questo comando tra l'altro piccola parentesi ha una parte finale questa che è un codice che cambia ad ogni evento live che noi creiamo quindi questo qui vedete che c'ha anche cita anche il mio cognome quindi è proprio personale io vi lascio nella descrizione del video questo comando però non è che copia e incolla funzionerà per voi ognuno di voi dovrà arrivare fino qui e avere il suo codice che lo vedete qua ecco vedete che a suo tempo quando ho provato il comando avevo questa codifica questo nome di streaming di stream con questa codifica e adesso che ne ho creato uno nuovo in questo video assieme a voi vedete che la codifica cambia c'è sempre il morino davanti però poi cambia la codifica successiva vedete tutta diversa da questa quindi tenete presente che il comando che vedrete nella descrizione del video sarà proprio questo fate copia e incolla ma poi dovrete adeguarlo sicuramente in questa ultima parte prendendo il codice che sarà assegnato a voi nel vostro canale youtube quando create voi il vostro evento live e eventualmente altri parametri li potete cambiare ma soprattutto questo è personale io ve lo lascio come esempio ma qui sostituirete con il vostro detto ciò passiamo a descrivere rapidamente il comando giusto per orientarci in attima capire dove eventualmente possiamo ritoccare i parametri perché non tutto è da toccare alcune parti le lasciate come sono se no non funziona altre le potete toccare a seconda della vostra situazione allora prima di tutto come fa vconv a prendere come input lo stream ovvero il flusso d'immagine da una vostra webcam che avete connesso al vostro pc lo fa tramite il video for linux 2 che è come dire un driver video un supporto software che permette di interagire con queste unità hardware tipo le webcam o le videocamere insomma ecco e lo fa il comando andando a specificare da quale webcam prendere prendere le immagini perché dico da quale perché le webcam possono essere anche più di una connesse al vostro pc ecco nel caso mio tipico di un pc portatile c'è la solita webcam già innestata nella cornice dello schermo ecco e la prima webcam in ordine cronologico come dire di connessione in questo caso per me è l'unica comunque adesso innestata nel mio pc connessa al mio pc dicevo ecco le webcam sono riconosciute in un sistema linux a questo percorso di cartella e di elemento sotto la cartella quindi la cartella dev che sta per device quindi per l'hardware connesso al nostro sistema e l'elemento video 0 ecco lo 0 sta ad indicare la prima webcam connessa al vostro sistema ne connettessi un'altra mi dico qua ne connettessi un'altra ci sarebbe un dev video 1 un'altra ancora video 2 eccetera eccetera quindi nella mia situazione standard dove tranquillamente comodamente posso usare la mia webcam integrata nello schermo del mio pc portatile indico dev video 0 e probabilmente anche per la maggior parte di voi potrebbe o sarà sicuramente così quindi il comando è impostato con dev video 0 se non è così non fosse così sappiate che dovete ritoccare leggermente questa parte del comando sostituendo lo 0 con il progressivo della webcam che avete innestato in più oltre a quella integrata nel vostro pc portatile quindi questa è una parte che potenzialmente potrebbe essere modificata da parte vostra poi ci sono due punti nel quale vedete apparire qui nel mio caso 640x480 ecco questa è la grandezza dell'immagine che io recupero dalla webcam rispettivamente che spedisco adesso la trovo ecco che spedisco qua quindi questo è quello che acquisisco dalla webcam 640x480 punti e questo è la grandezza che io spedisco alla piattaforma youtube e questo 640x480 vedete che è legato al bitrate di 500 kbps fino a 2000 kbps che corrisponde al 480 come definizione di video ecco volessi o potessi trasmettere live in streaming un video a più alta dimensione qualità tipo 720x1080 dovrei sostituire queste dimensioni con il 1200 per esempio ecco 1280x720 sarebbe il passo successivo quindi qui invece di 640x480 se avete un pc e una linea internet adeguata potete sostituire con 1280x720 o addirittura di più 1920x non mi ricordo più cosa per il 1080p quindi fate coincidere questa impostazione con le dimensioni dell'immagine che poi trasmetterete quindi immaginatevi che impostata la cosa così e funziona per me per il mio pc per la mia linea internet impostate le cose così così io trasmetto costantemente quindi in streaming a 30 immagini al secondo immagini di 640x480 pixel costantemente dalla mia webcam ecco poi c'è l'ultima parte del comando di cui ho già parlato prima cioè questa che è proprio l'identificativo univoco dello stream il nome dello stream si chiama proprio il nome dello stream che è quello che ci viene dato da youtube noi dobbiamo fare copia di questo e metterlo qui sostituire questo del comando di esempio con quello corrente attuale dell'evento live che stiamo per preparare la parte davanti scusate che il mio telefono si è messo a parlare da solo comunque andiamo avanti ecco la parte davanti al nome dello stream è l'url ovvero l'indirizzo internet del server della piattaforma google youtube che farà il lavoro di trasmettere in diretta lo stream che gli arriva quindi questo qui vedete che non è il solito http ma è un rtmp che vuole appunto dire protocollo di trasmissione multimediale in streaming ecco e quindi bisogna fare un bel copy and call anche di questo e metterlo qui questo però visto che non cambia finora a me almeno è sempre stato fornito questo indirizzo rtmp a eccetera eccetera live 2 finora non lo so magari provate voi vera fuori live 3 non lo so se questo cambia nel mio caso ho provato in diversi occasioni proprio per testare degli stream live e mi è sempre dato questo stesso indirizzo quindi si copia questo eventualmente se fosse diverso dal comando di esempio che vi offro io sostituite anche questa parte con questa ecco ed è praticamente tutto qui il nostro comando è impostato adesso una volta impostato il comando noi lo facciamo partire questo comando perché? perché lo dice anche qui nella sequenza di impostazione avviare il codificatore ovvero il nostro comando magari possiamo vediamo un po' si posso metterlo vediamo un po' di fare una prova naturalmente la webcam in questo momento è coperta quindi l'immagine sarà nera ma non fa niente non è lo scopo di creare veramente uno streaming live ma è solo per mostrarvi come funziona quindi il comando avicom adesso è pronto io ho messo il nome di stream giusto tutto il resto coincide io non devo cambiare nient'altro e avvio il comando con un enter e ecco in questo momento vedete che il comando avicom sta registrando io vedo la spia della webcam che è attiva sulla sulla cornice dello schermo del mio del mio pc portatile e qui vedete che lo stream sta andando sta già registrando in questo momento e e praticamente noi siamo pronti per trasmettere la cioè lo streaming in realtà è già disponibile qui sulla piattaforma youtube l'ultimo passo adesso è andare alla cabina di regia per gestire questo stream e vedete che qui nella scheda passando prima seconda scheda terza scheda ora possiamo andare nella cabina di regia per per gestire il nostro stream ecco vedete che lui si è già accorto che esiste uno stream vivo perché mi dice che lo stato dello stream è buono a 480p lo stato è buono quindi la piattaforma youtube attraverso questo indirizzo internet con questo protocollo dedicato a questa attività proprio questo sta mandando le immagini della mia webcam le sta mandando la piattaforma youtube la quale le sta ricevendo si sta accorgendo che le sta ricevendo e dice che è buono il flusso quindi il mio pc regge bene malgrado che stia registrando contemporaneamente questo video il mio pc regge bene e contemporaneamente sta continuando a mandare lo stream dell'immagine della mia webcam ecco per lo scopo di questo video non sto qui a mostrarvi come si va avanti a gestire il tutto guardando l'anteprima aspettando l'orario di effettivo inizio della della trasmissione live noi abbiamo impostato di farlo partire effettivo alle 10 per esempio eccetera eccetera in questo momento il tutto è quasi pronto ecco per lo scopo di questo video ripeto non andiamo avanti più di così perché lo scopo primario era quello di mostrarvi un modo per riuscire anche con Linux a creare eventi dal vivo malgrado che in un primo momento sembrerebbe non possibile essendo i codificatori disponibili solo per altre piattaforme in realtà grazie al potente comando aviconf possiamo anche noi fare volendo i nostri streaming live ecco vedete che tra l'altro nel frattempo la piattaforma youtube mi dice che in realtà lo stato dello stream è di cattiva qualità pazienza prima era buono poi è diventato cattivo si vede che il mio pc o la mia linea internet non sempre riescono a sopportare il carico però malgrado che esca cattiva io ho anche provato a guardare un'anteprima tutto sommato audio video è bello sincronizzato diciamo che funziona la cosa si arriva a farla funzionare tranquillamente e lo streaming qui vedete che va avanti tranquillamente funzionare ecco una volta che è finito l'evento live con ctrl c come si dice qui ctrl c permette la combinazione tasti ctrl c di interrompere un comando avconv quindi faccio ctrl c ho chiuso la trasmissione diciamo così finito lo streaming adesso non c'è più lo streaming è stato interrotto lo streaming e quindi l'indirizzo internet della piattaforma youtube ecco vedete dopo un attimo se ne accorge la piattaforma e dice non stiamo ricevendo dati dal tuo codificatore cioè io ho interrotto l'invio dello streaming e la piattaforma youtube se ne accorta immediatamente o quasi immediatamente vedete mi dice nessun dato non sto più ricevendo niente ho interrotto ecco quindi questo prezioso comando e vi dico prezioso perché un po' ci ho litigato cercando in internet suggerimenti di qua e di là comandi che funzionavano solo per il video ma non funzionava l'audio comandi dove funzionava l'audio ma la qualità video era pessima eccetera eccetera sono riuscito a trovare un compromesso che vi permette di creare uno streaming ben coordinato allineato fra audio e video con una qualità che a dipendenza della vostra infrastruttura può essere sufficiente o ottima e quindi possiamo essere trattati diciamo alla pari delle altre piattaforme Mac e Windows anche se stiamo usando Linux semplicemente con questo comando è un terminale che sta lì a fare il suo streaming dietro le quinte ecco io non ho come dire ambizioni di fare eventi live di fare trasmissioni live non è la mia ambizione non so se mai capiterà un giorno la possibilità o la necessità di farlo però qualcuno di voi magari fra il mio affezionato pubblico ha questa necessità e finora non sapere di poterlo fare pur usando Linux ed ecco che ho creato questo video che spero appunto come sempre che possa essere interesse a qualcuno di voi con questo è tutto vi saluto ciao ciao e alla prossima ciao